e la tipologia di commenti che ricevi è comunque più o meno la stessa di quella che ricevi dagli uomini lasciate il trucco a noi donne oppure altre robe assurde tipo volete venire voi a stirare questo me lo ricordo ancora perché è proprio una combo di robe o scene da dire che non esiste io sono Debs io sono Ele siamo migliori amiche e ci uniscono un sacco di passioni ma una cifra proprio una tra tutte è quella del beauty e questo è il nostro podcast benvenute e benvenuti a Bla Bla Blush una produzione Shereel Studios bentornate e bentornati a Bla Bla Blush terza puntata assurdo siamo già alla terza puntata e questa sarà ancora più speciale vi avevamo detto che con questa stagione avremmo introdotto un sacco di novità e diciamo che oggi c'è una delle novità maggiori di questa stagione la più importante importantissima perché in questo podcast noi parliamo di tantissimi argomenti diversi vi portiamo le nostre esperienze ma non sempre abbiamo esperienze dirette esatto io e te abbiamo fatto tante cose vissuto tante cose ma non tutte quante quindi per aiutarci a raccontare dei temi che ci stanno super a cuore ma che appunto non abbiamo vissuto in prima persona abbiamo pensato lo diciamo è arrivato il momento di dirlo certo di farci aiutare da qualche amico e in questo caso dato che andremo a toccare un tema particolarmente a cuore che ci sta particolarmente a cuore di cui parliamo tanto anche sui social abbiamo chiamato un amico che è appunto il primo ospite ufficiale di Blablablash per parlare insieme di trucco maschile e il nostro super ospite è Luca Liquors Beauty ciao ciao grazie dell'invito grazie mille benvenuto grazie grazie a voi come ti senti in questo spazio tutto rosa bene finché c'è il rosa io mi sento a casa perfetto ed è un argomento di cui parleremo in questa puntata il rosa ci piace sarà un bello presente come stai? bene mi sento un po' tipo prima puntata di un reality che dobbiamo mantenere botta però sì ci sono vuoi? bene è una novità anche per noi perché nel comfort del nostro spazio comunque siamo sempre state da sole e il fatto di avere un nostro amico qui diciamo che ce la rende più facile esatto cioè almeno già noi siamo amici quindi è un po' più scialla esatto verissimo e oggi abbiamo veramente tanto tanto pensato a chi volevamo come primo ospite soprattutto per parlare di questo argomento e tu ci sei venuto subito in mente grazie è stato il primo nome che abbiamo pensato assolutamente perché lavori con il beauty quindi nel mondo del beauty ormai sei un po' OG come noi sì sì ormai sto stagionando anche io cioè mi rendo conto comunque che sto impecchiando quindi sì e a proposito di stagionatura hai anche cioè non voglio dire le nostre età siamo ce lo puoi dire no ma lo possiamo dire ormai l'abbiamo detto molte volte è sdoganato questo argomento ormai comunque siamo 30's and thriving 33 quasi 34 e quindi comunque di esperienza ce n'è anche un po' rispetto magari ad avere 20 anni 18 anni che può essere diverso sì sicuramente tu hai vissuto tanto come noi pre social e post social e questo secondo me per l'argomento di oggi sarà molto 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 importante vabbè ovviamente Luca se non lo conoscete è un content creator beauty come lo siamo io e l'onore infatti è proprio così che ci siamo conosciuti e andremo a trattare proprio dell'argomento il trucco sugli uomini anche gli uomini si truccano spoiler e quindi raccontaci un po' come è partita la tua passione cos'è che ti ha portato poi a fare del make up e il tuo lavoro sì sostanzialmente le insicurezze cioè penso che le abbiamo tutti quindi potete capire soprattutto le occhiaie cioè io ti guardo infatti ti sto guardando per questo le occhiaie proprio mi mi triggerano tanto infatti abbronzato mi va bene perché si camuffano è la vita è la vita abbronzati e lentiggini sì sì ma infatti io ho fatto la super combo oggi così almeno e quindi niente mi sono trovato anche a uscire con una mia amica in store make up eccetera e mi aveva fatto vedere che era possibile coprirle magia e quindi timidamente comprai il primo coro secondo me era tipo 2006 ah vabbè io ragiono così in ere comunque in ere chissà perché super young dovete sapere che qui al tavolo abbiamo due swissies abbiamo tante cose in comune proprio tra tutti e tre ah mostacce così sei in minoranza e quindi sì ho approcciato quel primo correttore ovviamente texture sbagliata colore era tipo uno di quelli rossettini oh che brutti che erano quelli sì e poi ho avuto tipo una pausa perché nessuno mi spronava vabbè però adoro che comunque è sposato in una passione in un lavoro però è nata da un'insicurezza che ha cambiato la mia vita cioè totale in tutto ma infatti proprio l'approccio anche alle insicurezze che a volte le rende un punto di forza esatto è stato assurdo quello sì sì secondo te andiamo subito sulle domande calde in Italia perché comunque la nostra referenza è questa la sensazione che hai è che questo è un argomento che triggera gli uomini cioè l'idea dell'uomo truccato poi non solo gli uomini forse le persone esatto sì un po' tutte quello che penso io in generale che specialmente in Italia c'è una struttura molto patriarcale dove l'uomo deve ricoprire un certo ruolo avere un certo modo di porsi rappresentare anche esteticamente un modello e seguire proprio anche un tracciato di vita di un certo tipo secondo me il ragazzo l'uomo il maschio che si trucca va un po' a minare questa struttura preimpostata quindi femminilizza perché poi il trucco anche erroneamente è sempre stato associato a figure femminili che poi appunto non è proprio così in realtà e quindi spostare una caratteristica femminile così tanto forte su una figura che è patriarcale cioè i bambini tendenzialmente vengono educati per prendere la patente poi sposati mantieni tu la famiglia tutto sulle tue spalle tu devi essere quello che secondo me truccarsi mina un po' questa figura autoritaria questo macismo cioè io uno dei commenti che ricevo con più frequenza è non sei un uomo perché sì semplicemente per il fatto che ti trucchi perché c'è proprio questa gabbia mentale per cui se ti trucchi sei donna che poi è assurdo perché ovviamente nel podcast anche nella prima stagione ma anche in questa abbiamo già toccato e toccheremo dei temi che riguardano il patriarcato sotto altri punti di vista per assurdo nonostante appunto anche le donne vengano tanto 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 colpite dal patriarcato questo è un caso dove noi donne possiamo tranquillamente decidere di truccarci o non truccarci è vero che anche lì ci sono altri tipi di discriminazioni che si mettono in atto di giudizi pregiudizi ma in questo caso specifico abbiamo più libertà di scelta è normale una ragazza struccata è normale una ragazza truccata per la visione comune sì sì è vero verissimo e la cosa che dicevi anche dei genitori sui bambini una cosa che ho notato perché mi è capitata proprio di notarla è che quando c'è un bambino o beh nel caso vabbè ho visto proprio vedere il padre parlare del figlio ma anche la madre tutti i due genitori il bambino che chiede di giocare con un trucco una cosa in quel caso era addirittura un cerchietto con l'orecchia da gatto dimmi se il gatto deve essere femminile o maschile ma c'è le orecchie incredibile ed era toglilo assolutamente sì mentre di solito la bambina può giocare un po' anche con le macchine io ho sempre giocato con le macchinine quando ero piccolo c'è proprio la paura di lasciare libertà anche di un gioco e che questa cosa anche già da bambino voglia significare qualcos'altro guarda ti racconto un episodio di quando ero piccolino che andavamo al Burghi ancora non c'era il Mac e praticamente facevano il menu e c'erano le varie sorprese una maschile e una femminile c'era l'action man e i my little pony io volevo il my little pony ovviamente e la persona che ci ha serviti ha messo il my little pony dentro il sacchetto dell'action man cioè per non far vedere per non farmi girare siccome ero maschietto col sacchettino del my little pony assurdo però già te l'ha dato cioè io pensavo non te l'avrei no perché mia mamma gliela ha chiesto ah ok sì 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 io glielo glielo ho chiesto da parte perché avevo capito un po' la situazione no figurati ed assurdo già da piccoli essere esposti a questo tipo di ho detto madonna addirittura il sacchetto cioè sembra quasi ancora più sbagliato eh ma infatti e mi ha messo addosso quella cosa un po' perché c'è questa cosa anche questa connessione trucco sull'uomo sessualità assolutamente e sembra una conseguenza che è così per forza ma un'altra delle cose che mi scrivono spesso ma se vuoi fare la donna perché hai la barba ma io non voglio fare la donna questa cosa della barba la leggo spessissimo c'è un la barba quel make up triggera tantissimo ancora di più un sacco perché a livello cioè tu non solo sei maschio e ti trucchi ma hai anche la barba quindi comunque cioè come se hai sbagliato no ma infatti ma perché secondo me la gente non concepisce appunto come sia possibile che un uomo abbia delle caratteristiche che sono tipicamente associate a quelle di un uomo come appunto la barba che caratterizzano così tanto il genere diciamo di una persona anche a livello estetico ma allo stesso tempo vogliano truccarsi infatti la tengo apposta eh fai benissimo io la tengo proprio apposta come estremizzazione del messaggio fai bene io appunto una cosa che leggo spesso sotto i contenuti dei content creator beauty questa cosa della barba non la tra l'altro non la capisco cioè è una cosa che veramente non riesco a concepire anche per me è un mistero ma mi voglio agganciare una cosa che hai detto prima il trucco si pensa sia prettamente femminile ma non è proprio così no e allora qui il prop la nostra prof no ma guarda come cambia subito aura sì sì l'aura è proprio quasi mi ricorda la mia prof di matematica cioè hai capito poi qui ma com'era la tua prof di matematica no no i capelli aveva corti e colore esaurita eh ma sì sì che colore e marroni castagni no ma assurdo no perché per me sono solo è una cosa inside di chi ha visto poi le altre puntate si avirà sì 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 dobbiamo capire come sono le prof di matematica comunque a proposito di prof qui vorrei tirare fuori la storia del trucco quindi inizia al momento elepedia abbiamo un po' studiato per prepararci siamo andate a leggere e una cosa che volevamo capire era siccome il trucco era molto normalizzato nel passato se andiamo a pensare proprio nell'antichità sia nell'Egitto gli uomini usavano nel Kajal nella nell'antica Grecia anche nell'antica Roma unguenti e polveri leggere venivano utilizzate andando cioè avvicinandoci anche nel rinascimento soprattutto nella Francia venivano c'erano anche i nei che comunque andavano secondo me fanno parte del trucco certo sì 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 quelli finti trucco sono cosa è successo poi quando cioè dove c'è stato il gap di andava bene il trucco sull'uomo e però è andato più bene e l'abbiamo trovato questo momento storico nell'epoca vittoriana perché è stato il momento dove il trucco cade in disgrazia ok prima con gli uomini poi anche con le donne perché era associato tra l'altro anche questo vabbè certo alle sex worker dell'epoca quindi se tu utilizzavi il trucco eri una sex worker sì e da lì quindi hanno cominciato a dissociarsi da questa figura uomini e donne e l'ideale a cui tendere poi erano quelli di sobrietà di riservatezza e il trucco per decenni è rimasto legato poi solo al teatro dopo al cinema dopo al mondo dello spettacolo ma parliamo già di tanti anni tanti anni dopo e parliamo non più di un uso comune e qui tolgo gli occhiali perché è finito il momento professoressa grazie e sì torniamo alla quotidianità dove non è cioè probabilmente non è mai più tornato no normale comune comune il fatto di che poi è assurdo se ci pensi perché ci sono proprio degli ambi come hai detto tu adesso il fatto che poi piano piano il make up sia tornato normale nell'ambito cinematografico teatrale tantissimo ma ancora ad oggi si fa difficoltà nella vita comune in realtà è qualcosa che probabilmente riscontri anche tu quanto è differente poi l'approccio che c'è al make up ad oggi sui social dove soprattutto grazie anche a delle persone come te che hanno il coraggio di abbattere gli stereotipi e mettersi in gioco davanti a un pubblico vastissimo facendo vedere chi sei e la tua passione per il make up comunque rimane pur sempre un ambito dello spettacolo il nostro sì secondo me anche chi lo guarda e non vive minimamente questa realtà e anzi è contrario cioè comunque lo magari può rilegare soltanto a un fattore di vabbè ma è il mondo dello spettacolo sì lo fa per lo usi tipo io penso sempre a quando truccano i presentatori cioè loro va bene perché comunque devono andare in televisione devono essere visti da un milione di persone due milioni eccetera e devono essere al meglio e quindi c'è il trucco da studio correttivo cioè è così alla fine cioè c'è stata questa evoluzione io mi ricordo pure quando ero piccolo che ho iniziato a mettere la matita nera in una delle varie fasi perché Green Day 30 Seconds to Mars cantanti e mi ricordo che quando mi si netlog addirittura mi si faceva il commento sulla matita nera io quasi a difendermi dicevo eh ma lo fa Jared Leto per quello cioè perché amo i 30 Seconds to Mars per quello quindi era un'identificazione come fan della musica quel tipo di musica che accettava totale e anche forse un po' il fatto che lo facesse un uomo adorato anche dalle donne etero tantissimo sì questa cosa proprio lo fa lui cioè che palesemente è etero sembra insomma o si vive la sua vita in quel modo quindi è ok esatto per avere anche una cioè per calmare il commento e dirgli guarda che sei tu nel torto perché guarda anche lui però in verità cioè era normale anche se lo facesse successo da solo però è qualcosa che secondo voi sta cambiando sì esatto cioè come come hai visto negli anni cambiare l'approccio nei tuoi confronti dall'esterno sia nella vita reale quindi al di fuori dei social che sui social la vita reale mi interessa molto cioè tu truccato esci vai un po' allora io diciamo che ho avuto diversi episodi spiacevoli nella vita reale che siano locali piuttosto che in strada anche una volta questo comunque l'ho detto che ero a ballare e mi arrivò un bicchiere di vetro addosso ero truccato avevo le sopracciglia bianche cioè era un po' quasi tipo cyborg una cosa del genere e mi arrivò uno di quei bicchieroni giga di vetro addosso quelli della discoteca sì esatto assurdo però stavo ballando ho fatto tipo matrix quindi l'ho evitato ah meno male però sì una roba del genere e poi mi capitava tantissimo quando mettevo la matita nera mi ricordo perché ho avuto la mia fase emogotte eccetera mi facevano mi facevano sempre commenti per strada perennemente e questa cosa inizialmente mi ha totalmente frenato cioè io non mi sentivo sicuro nel truccarmi in giro poi quando ho iniziato a fare i social e effettivamente è cambiato un pochettino ho iniziato a fare tipo fondotinta correttore cioè il trucco che hai oggi per me è ma non è trucco non c'è niente praticamente c'è zero quindi se tu cioè vai con il trucco che hai oggi entri in un bar vai al ristorante eccetera vieni guardato cioè niente diciamo che ho smesso anche un po' di curarmene però non mi sento in soggezione sono capitati però eh dieci anni fa no dieci anni fa ma ero proprio impaurito io perché appunto erano successe determinate cose che poi si sono riconfermate magari negli anni quindi per tutela mia perché io ho proprio paura certo cioè ho paura e quindi evito di farlo adesso mi sto sbloccando un po' di più perché tornando alla tua domanda penso che sia cambiato perché comunque i social è come se ti dessero a casa tua l'opportunità di vedere tantissime realtà senza fare un minimo sforzo quindi anche il ragazzo che si trucca l'utente medio prima o poi lo vede una, due, tre, quattro volte e da questo punto di vista ti dico secondo me è un po' cambiato perché queste poche volte di recente in cui mi sono truccato magari sono anche più confident io mi sono sentito un po' più tranquillo chiaro è che se devo andare boh in Viale Padova la sera così non ci vado questo sicuramente però la cosa contraria dei social è che comunque arrivi a persone che non ce la fanno non ce la vogliono fare non hanno l'apertura mentale quindi senti ancora di più il lato cattivo e questa cosa è nuova perché tu con gli ultimi algoritmi degli ultimi anni ti trovi in home persone che non segui perché altrimenti queste persone di loro spontanea volontà non avrebbero mai cercato seguito guardato oppure se lo fanno c'è un altro motivo di fondo sotto c'è un interesse comunque riguardo all'argomento ma infatti io trovo che sia importantissimo la rappresentazione sui social è sempre importantissima qualsiasi essa sia in questo caso specifico appunto abituare le varie generazioni a vedere qualcosa che per loro è diverso sicuramente abitua pian piano l'occhio fino a che non arriva ad essere una cosa normale che è brutto da dire però effettivamente è così tantissime cose che oggi sono normali un tempo non lo erano e c'è voluto proprio c'è lì con la forza a farlo vedere sempre di più devi esporle in maniera quotidiana per quello che sono cioè normali e quindi secondo me abbiamo un progresso perché diventa quotidiano però un po' lento però un po' lento in Italia soprattutto è timido è molto timido poi io non lo so nel senso nelle mie testa penso da qui a tot anni non so quando però il futuro io lo so cioè io lo capisco dove andremo cioè spero che mi sembra la via è quella perché non accorciamo questi tempi no sono assolutamente d'accordo perché bisogna rendere tutto più lento tutto più difficile ostacolare cioè cose che poi effettivamente ma se allora c'è il caso della persona se ti viene a cercare che gli viene il pallino di te che ha un interesse particolare e probabilmente nasconde qualcosa che non vuole ammettere neanche a se stesso ma se invece tu sei un uomo che sta tranquillo nella sua vita non ti vuoi truccare tu ok vedi un uomo che si trucca che problema c'è perché viene minata in qualche modo la tua mascolinità cioè non viene minata perché lo pensano esatto questo non riuscirò mai a capirlo io percepisco chi sta dietro e fruisce dei contenuti si sente in dovere e in potere di approvare o reprimere qualcosa che lo rappresenta o non lo rappresenta è come dire cioè io odio i broccoli se tu stai mangiando i broccoli devo per forza dirti che hai sbagliato questo è un po' capito su tutti i vari campi come dicevo prima minando talmente tanto cioè cavolo ormai non ci sono più gli uomini di una volta questo è il commento ma che te ne frega cioè è come se ci fosse una fazione tipo quello che guarda e dici io sono l'ultimo baluardo devo rimanere io no sono l'uomo di una volta no già sono in pochi cioè è così a parte gli uomini invece donne che ti commentano perché appunto dell'uomo abbiamo parlato un po' ci sono donne che ti commentano online o nella vita reale che commentano la tua scelta di truccarti di parlare di beauty allora sorprendentemente nell'ordinario sono più le donne perché quando arrivo all'uomo al bambino perché il contenuto gira particolarmente eccetera è più facile che arrivi a una donna che guardi già del make up e sono tante comunque sono tante hanno tendenzialmente una certa età oppure sono molto molto piccole veramente piccole i commenti che ricevi è comunque più o meno la stessa di quella che ricevi dagli uomini che schifo lasciate il trucco a noi donne oppure altre robe assurde tipo volete venire voi a stirare questo me lo ricordo ancora sì perché è proprio un accombo di robe o scene da dire che non esiste in più la barba sempre comunque la barba cioè quindi dà fastidio questa barba anche alle donne tantissimo perché le donne poi lo ricollegano all'igiene ma è assurda questa cosa ma non è sporca ma come sai a truccarti la barba ma ti pare che mi metto il fondotinto sulla barba ma poi che lo stesso concetto le sopracciglia i capelli ma i capelli allora ti metti un gel per capelli io questa cosa dell'igiene a me triggera da morire perché tutte le volte che leggo ovviamente a me non lo fanno in relazione alla barba lo fanno in relazione alle unghie io dico ma scusa ma allora tu non sai proprio le basi dell'igiene vuol dire che tu che stai commentando dice più di te che di me questo tuo commento no ma veramente è assurdo ma la barba poi la lavi anche più dei capelli ma poi la salvietta cioè un attimo ma poi anche che fosse sporca di fondotinta qual è il tuo problema qual è il problema no ma no veramente la barba è una grande menata è assurdo che lo sia per le donne sì 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 tantissimo allora adesso ti faccio io una domanda che mi incuriosisce veramente tantissimo e tra l'altro mi è capitato proprio qualche giorno fa di vedere un contenuto di un amico che parlava proprio di questo argomento ok ora so che tu come noi sei ormai accasato da veramente tantissimi tantissimi anni quindi probabilmente è qualcosa che di cui non hai experience recenti sicuramente non hai experience recenti però volevo sapere un po' la tua opinione e se avevi sentito anche tu da altri tuoi amici cose del genere e in generale che cosa ne pensi mi sono resa conto che nell'ambito del dating per un uomo che si trucca nello stesso mondo gay nella comunità lgbt c'è una discriminazione esagerata ma non hai idea amo di quante persone ho sentito che dire cioè io non riesco a trovare una persona con cui uscire ma anche solo in amicizia o frequentarmi perché dal momento in cui viene a sapere che io esco di casa truccato e non è qualcosa che io faccio solamente nel comfort di casa mia per registrare contenuti per divertirmi e giocare cioè diventa un blocco così grande che blocca la frequentazione mi sorprende che questa discriminazione venga proprio dal mondo lgbt guarda questa cosa è assolutamente vera perché io avevo due compagnie prima di sedimentare molto con i social e di conseguenza avendo trovato la mia dimensione col beauty col make up uscivo poi ero in gruppo quindi mi sentivo anche molto tranquillo quando poi è andata avanti il discorso instagram eccetera le stesse persone con cui uscivo ho saputo che mi prendevano in giro veramente ed erano anche persone che avevano anche scopi sessuali nei miei confronti che non hanno mai soddisfatto però è diventata la presa in giro e mi ricordo agli inizi che proprio schiernivano c'è col fondotinta ora fai la femmina sei tu la femmina del gruppo c'è perché a un certo punto secondo me subentra poi tanti altri discorsi concatenati però è come se cioè tu sei comunque un uomo anche se sei gay ok e quindi io voglio c'è una cosa bruttissima che si chiama m per m che è maschio per maschio quindi io sono un uomo e non sono effemminato non sono femminile nel mio aspetto quindi cerco per m un uomo che altrettanto sia mascolino che sembri insospettabile dall'esterno perché poi diventa un discorso anche di questo tipo se io frequento una persona che si trucca in giro ci espone a prese in giro situazioni spiacevoli che già magari vivo nel mio perché sono omosessuale figurati se frequento una persona che si trucca quindi c'è questa discriminazione ma come banalmente anche se metti su qualche chilo poi ti prendono in giro purtroppo la situazione è questa col make up di brutto cioè proprio si percepisce ti ripeto io venivo preso in giro e poi l'ho saputo e dopo che tu l'hai saputo hai affrontato queste persone no li ho lasciati proprio nel loro brodo cioè per me non era già niente indifferenza e forse tutto quello che hai raggiunto oggi già parla per te assolutamente e ovviamente dato che come dicevi all'inizio con Omar il tuo compagno invece c'è stato più o meno la stessa cosa no di fidanzarsi con qualcuno che invece aveva totale libertà nell'espressione di se stesso con il make up non ti è mai venuto il pensiero dell'oddio mi sento minacciato da questa cosa no mai assolutamente anzi dico sempre che Omar in tantissimi modi ha cambiato la mia vita proprio le mie percezioni io non sarei qua se lui non avesse messo quel fondotinta davanti a me oggi sono super tentativa però è vero non sarei qua perché siccome io sapevo che all'interno della nostra comunità c'erano queste discriminazioni io nei primi mesi di frequentazione ma mettevo proprio uno sputo di correttore camminavi proprio piano e piano passavi il terreno quando vuoi far vedere la parte più bella di te all'inizio quando ho visto che lui aveva il fondotinta ale è bellissimo avere anche una posizione in comune scambiarsi i consigli è anche una bomba a mano per il conto in banca però a proposito di conto in banca io ho un dato qui alla mano ok infatti è molto interessante perché lato industria dal 2010 le vendite globali di prodotti di bellezza maschili stanno crescendo più velocemente di quelle femminili cosa ne pensate? io penso che cioè ci stia perché di base i consumatori uomini in partenza sono molto molto meno secondo me sempre con l'avvento dei social eccetera raga di base sono una persona insicura ed è mentalmente elastica ma perché io non me ne devo coprire le occhiali? ma infatti cioè se mi fanno stare a disagio le sopracciglia cioè perché non lo devo fare? quindi secondo me anche quello è un po' anche perché vedi tanti prodotti quindi magari un po' inizia a capire come farlo anche delle linee magari hanno cercato di avvicinarsi anche lì parleremo se ci piace o meno questa cosa sì diciamo che la linea ha cercato un po' di imboccare l'uomo timido possiamo dire questo magari per abbattere quello scoglio iniziale del mio approccio al mondo del make up e della skin care nonostante sia qualcosa che è considerato essere femminile lo vendono ovunque clemizzato per te ti senti un po' più sciolto secondo me cioè io andavo era pieno di ragazze cioè mi ricordo proprio sta roba che io fingevo che non fosse neanche per me il correttore eppure se ci pensi è assurdo è fuori di testa era per me una cosa del genere però ci sono anche secondo me delle cose ancora più piccole che possono bloccare gli uomini ancora prima ad esempio penso ai packaging dei prodotti qui con noi abbiamo chi ci sta guardando tra l'altro su youtube su spotify sulle varie piattaforme lo vede dall'inizio della puntata con noi bioderma con un prodotto che è per tutti un brand che è per tutti e questo prodotto in uno specifico è il loro prodotto iconico non so se penso lo conosciate anche voi l'acqua micellare sensibio h2o che ha un packaging con un tappo rosa e il tappo rosa è un colore che di solito viene associato all'universo femminile e quindi può essere una cosa che non solo blocca dall'acquisto ma magari dicono non è pensato per me quando invece è pensato per tutti quanti esatto e non solo il packaging ma anche quello che c'è dentro ovvero l'acqua micellare stessa è un prodotto che possono usare tutti quanti esatto ma infatti ovviamente questa acqua micellare è iconica ne viene venduta una al secondo è stato proprio un prodotto che io ho conosciuto tanti 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 anni fa perché in accademia di make up quando studiavo c'è stato subito presentato come il prodotto da avere assolutamente nel kit da make up artist per andare a detergere delicatamente la pelle e struccare il make up quindi di conseguenza per stare in un kit make up professionale make up artist che truccano e struccano tutti chiunque a prescindere dal genere dalla tipologia di pelle vuol dire che è un prodotto universale un prodotto dato a tutti non lo sapevo ma ho scoperto che è la prima acqua micellare della storia dai e nonostante tutto questo c'è chi si ferma magari soltanto al tappo rosa eh ma te l'ho detto secondo me è proprio una cosa di indotto della società perché di base comunque tu vedi mai un maschio che come primo colore sceglie il rosa no però è stranissimo figurati in un reparto cosmetico dove andare a prendere un prodotto rosa molto femminile anche kawaii banalmente sì cioè queste cose super girly secondo me intimidiscono un po' cioè non li vedo non li vedo in realtà però sì forse è per questo che alcuni brand hanno pensato di fare delle linee uomo però poi sono state anche molto criticate cioè ce ne sono tante che sono state criticate sì perché è come se andassero un po' almeno questa è la mia opinione a porre il punto sul fatto che questo è da uomo questo è da donna quando appunto come abbiamo visto non è anche nel colore cioè di solito le linee uomo hanno questo nero questo grigio blu e anche i nomi l'altro giorno mi è capitato un tiktok con tipo i nomi sì è capitato anche a me i nomi dei bagnoschiuma adesso non ricordo cos'era e c'era per il reparto femminile era tutto profumo di petalo soffice delicatezza e mi sa che era shampoo forse ora non mi ricordo quello da uomo era energia forza sport vitality sì e capisco che dietro a tutto questo c'è anche ovviamente marketing però secondo me bisognerebbe giocare a andare oltre a capire che ci sono cose che possono andare bene per tutti quanti d'altronde noi cioè quando dobbiamo comprare un prodotto che sia noi spesso ce lo diciamo con le macchine ma anche con i telefoni di default non ti danno il rosa nelle scelte eppure io non è che non ho comprato la macchina perché non esisteva il colore che mi piace diciamo più Deborah perché è il suo colore preferito io poi la mia macchina nera l'ho fatta diventare rosa perché la volevo rosa però è assurdo che di default appunto cioè ci siano dei colori considerati neutri come il bianco il nero il grigio quando proprio forse per paura di andare a definire troppo l'identità della persona che acquista il prodotto solo per il colore ma è chiaro infatti io la penso un po' come te per queste linee for men cioè in generale quando c'è qualcosa da normalizzare l'etichetta la separazione non fa altro che aumentare il divario cioè se io vado lì mi trovo il counter che ho scritto for men cioè ok penso che tutto il resto non mi spetta non lo devo neanche guardare non è una roba pensata per me quindi quelle robe sono palesemente femminili io non devo andare lì perché il for men è qui secondo me è un po' contraria come situazione ci sono delle cose dove secondo me è difficile cioè una sfumatura io penso al mondo dei profumi il mondo dei profumi divide proprio le fragranze in femminili e maschili e se tu pensi a fragranza femminile sai bene cioè proprio riesci quasi a sentirla stessa cosa alla maschile quindi per esempio quella è una distinzione che posso capire anche se mi piacerebbe trovare un'alternativa solo che non anzi nei commenti se vi viene ditecela perché a me piacerebbe trovare un'alternativa però al momento posso capire per esempio ci sono delle linee che hanno maschili di magari qualche crema così profumazioni maschili però secondo me è sempre una roba di ti invoglio ad utilizzarla è sempre un'associazione perché poi il profumo te lo puoi mettere anche dopo infatti ma banalmente tu immagina un uomo di questi che lasciano i commenti sui social cioè non si sentirebbe mai ma non perché non gli piace cioè magari gli piace tantissimo secondo me non mettono neanche la crema ma neanche si lavano cioè usate il sapone magari si metterebbero tantissimo il profumo alla rosa perché dicono cavolo quanto è buono questo profumo alla rosa ma anche solo per il fatto che solitamente il profumo alla rosa è associato alla figura femminile non se lo mettono però ho un po' di speranza nel genere umano proprio perché ad esempio uno dei miei profumi preferiti è la vaniglia e il sale che adesso è sold out è reperibile eccetera l'avevo lasciato in Calabria per mettermelo ogni volta che insomma per avere anche un profumo lì e me l'ha finito il fratello del mio fidanzato dai e non non gliene frega niente ma quando ritorna perché io lo voglio mi piace un sacco se torna compra me lo c'è andavo sempre in giro con quello lo adoravo ma infatti vedi che se l'hai trovato lì non categorizzato e ha seguito nel suo l'olfatto sì non si è fatto bloccare dal fatto che fosse un profumo tra virgolette femminile mi piace lo metto sì 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 infatti mi è reso super felice cioè non me l'aspettavo è finito io però perché sono figlia della stessa società dove vivo quindi ho pensato me l'avesse finito la mamma chiaro perché sono tre figli maschi e invece sono rimasta super super happy we love invece a questo punto io introdurrei un po' anche l'argomento approccio degli uomini etero delle nostre vite ai prodotti beauty sì sei curioso di sapere gli aneddoti che abbiamo dai vai anche perché io l'avevo su di me non so mai feedback esterni i miei approcci i miei uomini etero i tuoi uomini i miei due uomini sono mio papà e P ok allora P col fatto che ormai è sotto le mie grinfie esatto vivendo insieme da tanti anni il primo approccio alla skin care che ho cercato di avere con lui è stato quello dei punti neri perché purtroppo cioè ragazzi è il mio guilty pleasure no no ma io sono proprio fissata con i punti neri nel senso ne vedo uno te lo devo spremere io adoro cioè se ce l'hai soprattutto in faccia che va tolti io non ti guardo negli occhi anche io non ce la faccio proprio non ce la faccio proprio quindi a un certo punto per cercare di non stare sempre lì con le mani a schiacciarli qualsiasi cosa l'ho introdotto ai cerottini per i punti neri ok ho introdotto ai cerottini per i punti neri sia lui che mio papà e qui ci torneremo e dopo i cerottini per i punti neri dato che P ha una pelle molto molto sensibile ho provato a fargli fare qualche maschera non sempre è andata benissimo a volte gli si arrossava il viso a volte gli è rimasta proprio la forma della skin mask può succedere anche perché appunto non era abituato a utilizzare dei prodotti è la dead joke della puntata è stata appena tirata fuori indovinate da chi dalla mia amica ovviamente and you're welcome proprio immagino anche perché la sua pelle prima di stare con me prima di vivere insieme non utilizzava prodotti di skin care quindi anche magari non lo so gli ho fatto utilizzare qualcosa di troppo aggressivo piano piano abbiamo cercato di capire quali potevano essere i prodotti skin care migliori per lui e ha imparato a casa ad utilizzare il detergente per lavare il viso ok all'inizio se lo scordava sempre poi è passato a dai lo uso solo la mattina poi finalmente ha iniziato ad utilizzarlo mattina e sera e sono rimasta super sorpresa perché quando è andato a vivere in America per tre mesi l'anno scorso si è comprato da solo raga cioè io sono andata lì a trovarlo e sul lavandino c'era un gel detergente per pulire il viso e lui mi fa cioè ma guarda la mia pelle quanto è tutta liscia cioè senti com'è morbidosa senti 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 e la crema se l'era comprata purtroppo la crema ancora ci dobbiamo lavorare io ci ho lavorato cioè hai lavorato io ci ho già lavorato cioè allora vai prima di attaccare con il secondo uomo della mia vita ti passo la palla allora Nicola per esempio per un sacco di tempo anche lui non ha stato niente però secondo me ora sto ragionando la skin care può essere il link tra uomo mascio e trucco assolutamente perché è qualcosa che secondo me quando uno poi ne parla è anche una questione di igiene di migliore la tua pelle non è qualcosa per prenderti cura di te stesso esatto a me farebbe forse ad oggi strano stare con qualcuno che non mette la crema perché sono ormai più di due anni che Nicola ha imparato a mettere la crema l'ha imparato sì l'ha imparato un po' a forza perché lui ha una pelle credo non sono una dermatologa però asfittica quindi ha proprio una zona nello specifico una o due zone dove se non mette la crema io gli dico non è messa la crema cioè si vede e lui fa oppure mi vede fa guarda ho finito la crema no mi adoro e la mette sempre ogni giorno ne ha finite al tipo quarto barattolino ma sono cioè sono super super la cosa che mi fa spaccare è che ovviamente lui usa creme da 100 euro perché io gli do e lui non sa cioè non sa non gli dà il peso della cosa esatto il valore di quello che gli stai effettivamente beh devo far parlare Nicola e P cioè così introduciamo un altro step poi fa maschere ogni tanto io quando gli dico ti metto dai questa cosa così e sì sì le maschere un sacco anche quelle calmanti perché all'inizio prima di usare la crema ogni giorno non è stato dal giorno alla notte cioè abbiamo fatto un po' di terapia d'urto e non solo lui già da anni fa prima della skin care quando aveva delle cioè io penso di essere stata la prima persona che ha visto piena di trucchi cioè proprio truccarsi piena così tanto avere 3.000 miliardi di cose e quindi già vivevamo insieme e mi ha detto ma io domani ho una riunione importante devo presentare un progetto a tutti quanti lui gli vengono spesso dei brufoli grossi rossi e gli fa tipo ma questo cosa me lo puoi coprire con qualcosa delle tue poi mi parla come se fosse una strega che ha tutte le sue pozzoni una pozione per brufolo ce l'hai infatti poi è diventato negli ultimi anni brufolo prima di coprirlo mi chiede ma c'hai tipo un gel una cosina per andarlo adesso anche i cerottini i patch e quindi mi chiese il correttore dai e io ero rimasta tipo molto sorpresa da questa cosa in positivo anche tu con la lacrimuccia sì e quindi ho scelto bene ho scelto bene sono andata a fare lì e poi era andato poi mi ricordo che ero tornata come è andata e non è stato soltanto una volta cioè è capitato più volte beh ma di base la base è quella cioè ho un difetto una cosa che è un brufolo cioè si può coprirlo esatto esatto perché lo devo tenere solo perché sono uomo se si può coprire è allucinante sì perché si pensa anche trucco uomo proprio come solo stratruccato e anzi ho delle persone purtroppo che so per esperienza diretta che pensano addirittura uomo truccato drag ah cioè addirittura sì riescono a fare solo quell'associazione nella loro testa è un'estremizzazione perché vedono proprio il trucco come capito sì e invece può essere può essere anche presente nella quotidianità a voglia tu hai altro aneddoto? io ho altro aneddoto questo è un aneddoto che mi fa arrabbiare però quindi papà questo è un appello pubblico per te un public shaming per il mio povero papi io amo il mio papà però su questo argomento ci scanniamo sempre ok allora appunto punti neri mio papà non può venire a casa nostra cioè lui lo sa che c'è la tassa a punto nero lui entra si siede e ogni tanto ma proprio tipo mia mamma mia sorella mi sgridano mi fanno debbora però c'è dagli il tempo di sedersi prima di andare là a premere tutti i punti neri e ho iniziato a dirgli però scusami se hai tutti questi punti neri perché lui ha la pelle grassa nonostante l'età comunque ha mantenuto la pelle che produce parecchio sebbo anche il mio e quindi gli vengono tanti punti neri sul naso tutti e papà con la pelle grassa e quindi gli ho detto scusami ma perché non utilizzi un detergente per lavare la pelle volesse il cielo ha detto no lui non lo anche quando vivevamo ancora insieme gli ho dato un sacco di prodotti ma come se la lava la faccia non li vuole utilizzare guarda con sapone è un altro di lì che è un altro sapone lasciamo gli ho detto chiedimi di dirti questa frase in coreano te la so dire perché gliel'ho detta anche in coreano in polacco devi provare anche in polacco ho provato cioè tutte non c'è modo non c'è verso e l'altra volta cioè proprio qualche settimana fa sono venuti i miei a cena e si è aperto il discorso solari in generale quanti è importante cioè io non ce la faccio a farli mettere in 50 e la cosa brutta è che ha avuto una reazione che è perfetta per questa puntata perché non solo mi ha detto no il solare non me lo metto ma si è girato verso P e gli ha detto ma perché tu te lo metti il solare e io scusa perché non l'hai chiesto a mamma perché non l'hai chiesto a me perché non l'hai chiesto a mia sorella l'hai chiesto a lui perché è strano che un uomo si metta il solare no P ha detto no perché lui non se lo mette abbiamo perso la chance ma lui non se lo mette per pigrizia non capisco ma il solare è proprio una roba anche di salute è quello togli tutte le sovrastrutture è una roba di salute ad esempio con mia mamma so che ho più il grip della ruga perché purtroppo per come è fatta la società la donna ha più paura di invecchiare rispetto all'uomo e invece a papà ho detto proprio papà cioè tu sei come me pieno di nei pieno ma sul viso ne ha 8000 cioè pure la dermatologa non sa più come dirglielo cioè non sappiamo più come dirglielo non si mette la crema sola au bravo cioè va au ora te lo dico proprio a te si è stato detto in mondo visione no è assurdo quindi ho detto vabbè almeno sarà un appunto interessante da portare in puntata e dato che abbiamo parlato delle nostre esperienze personali e quelle dei nostri cari io direi di andare a tirare fuori la come la possiamo chiamare stavolta la super magic ball ah devi sapere che ogni volta ha un nome diverso ha un nome diverso super magic ball questa è la nostra ciosola che contiene i messaggi dalla splendida community quindi pesco ne peschiamo una testa e commentiamo insieme il trucco è per tutti è la resa di un prodotto non cambia se si è donna uomo o non binary una linea direzionata è solo una strategia di marketing that's true sì siamo d'accordo penso anch'io questo che poi vuoi che sia per semplificare la fase d'acquisto eccetera però beh poi linea di trucco nello specifico makeup effettivamente magari nel senso la parte beauty posso pensare c'è qualcosa di specifico per barba per persone che rasano il viso ci sono anche mascara per la barba però trucco boh non lo so pesca vado mi preparo il mio prossimo ok allora dalla nostra super community arriva ah vedi che interessante mio marito si trucca per sentirsi più confident utilizza pochi prodotti ma per lui indispensabili quindi ottimo se qualcuno come dicevamo un'insicurezza o comunque vuole correggere si vuole vedere più bello si vuole vedere meglio vuole stare tranquillo tutti siamo un po' insicuri plus c'è chi è che non vorrebbe vedersi meglio meglio è assurdo ti faccio la vita io qui ho una bella lette un papiretto lavoro nel mondo del make up a Roma ok molte volte indosso soltanto una base sicuramente strutturata ma niente di più non ti dico quante me ne sento dire quindi ci scrive un ragazzo una signora addirittura si è fatta il segno della croce si si capita eh si perché ti proteggerà sicuramente si si una sera di qualche mese fa un gruppo di ragazzini che non superava i 15 anni mi ha accerchiato e provato a picchiare e mi hanno insultato questa è un'esperienza trississima però mi ha fatto venire in mente una cosa che non vi ho raccontato che io ho lavorato per tanti anni in negozi di make up e ovviamente ho avuto nel corso degli anni tanti colleghi uomini che lavoravano con me e mi è capitato un episodio veramente veramente tanto spiacevole dove ero io in negozio con questo collega lui si avvicina per servire una cliente questa cliente lo guarda e gli dice ma io non voglio farmi servire da un uomo che cosa ne capisci tu di trucco fammi a chiamare la tua collega è stato veramente veramente brutto lì abbiamo avuto anche la prontezza di rispondere a tono perché è not on my watch no not on my watch e quindi insomma abbiamo cercato di rimettere al suo posto la signora però purtroppo è vero che questi episodi spiacevoli sono all'ordine del giorno sì sono anche poi aggressivi violenti cioè perché poi qui mi viene da dire nella prima parte dove dice non sai quante me le sento dire la signora si fa il signo nella croce dico bravo che esci perché continui a far vedere questa cosa si normalizza però d'altro canto capisco della seconda parte la paura che puoi provare perché ne va della tua io per questo motivo sono sempre combattuto perché a volte penso che non uscire in full face quindi anche con ombretto e rossetto sia un po' uno step back rispetto a quello che faccio online però poi lì subentra la sicurezza cioè io non direi mai anche alla mia community di fare una cosa in un ecosistema esatto che potenzialmente è pericoloso cioè no lo capisco è complicato next round picco io sempre piccoli sui social è sdoganato ma dal vivo per niente lo smalto è vero questo lo smalto è l'unica cosa accettata questa roba qua dello smalto è proprio vero cioè io ho visto anche fare collezioni con cantanti di smalti ma infatti solo per dire perché perché c'è comunque un uomo etero che lo fa esatto che lo fa e quindi lo normalizza è super vera questa cosa che poi non è sbagliato perché si tratta sempre di portare qualcosa e normalizzarla assolutamente quindi ben venga però però ti serve sempre un po' quello schermo della persona amata dai più e tu ti accodi sì cioè ti serve sempre quella cosa un po' no è che poi la speranza che non sia un trend di quell'anno di quei sei mesi speri che sia una cosa che continua normale per sempre esatto che serve a normalizzare è brutto che si rimane un trend è vero comunque vabbè ma noi siamo speranzosi e bla 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 la speranza è l'ultima assolutamente anche io un bel papiretto se un ragazzo che si trucca fa un video diventa talmente virale che esce dalla sua nicchia beauty e riceve insulti e domande tipo ma è uomo una donna è assurdo l'hai scritto tu questa o commenti che forse non intendono offendere ma rimangono non graditi tipo stai meglio senza c'è ancora tanta strada da fare e questo mi mette in guardia su dove ho intenzione di andare per quale occasione e valuto se uscire truccato o no purtroppo quindi il tuo sentimento è condiviso purtroppo è così io ne ho uno simile ma detta in una frase a Milano ti urlano ancora dietro se ti trucchi da quattro anni ho visto solo un peggioramento peggioramento addirittura sì secondo me poi nel caso di Milano sì è proprio anche un peggioramento della città in generale spero e fortunatamente mi auguro non sia in tutta l'Italia no? no però è vero Milano purtroppo l'ecosistema è peggiorato un sacco eh tu vivi a Milano per contesto sì io esco proprio se necessario wow oh questo ci non mi sento ancora sicura uscire con i trucchi elaborati anche in discoteca gay e a volte sei visto male gli insulti ci sono sempre ogni giorno è un po' estenuante anche se voglio vivere la mia vita per come credo meglio io cioè io posso confermare parola per parola perché come dicevamo prima anche le discriminazioni interne purtroppo ci sono cioè prese in giro o cose del genere purtroppo questo messaggio è tristissimo ma è vero speriamo che si smuova prima magari qualcosa internamente all'interno della comunità perché forse questo è un peggioramento eh sì è sempre di dire che dovrebbe essere la tua rete di sostegno è sempre discriminato a destra e a manca pure internamente cioè mi sembra assurdo ok ultimi bigliettini ultimi mio ultimo bigliettino non conosco nessun uomo che si trucca nemmeno i miei amici gay penso siano pochissimi in realtà no c'è da dire però che noi siamo parte di una nicchia è vero proprio specifica cioè noi abbiamo tanti amici che fanno il nostro stesso lavoro quindi appassionati di beauty però se pensi a 5-10 anni fa secondo me sono molti di più sì poi magari ho un occhio appunto cioè il mio punto di vista è quello della vita che vivo quindi ne conosco tanti però mi sembra di vederne di più rispetto a quando ero piccola io sicuramente quando ero piccola io ero solo una questione di emo quello che dicevamo prima di appartenenza ad una categoria sì magari no boh magari può essere un caso il fatto che io sono in golf ma può essere un caso il fatto che questa persona non conosca nessuno che si trucca ma sicuramente non è la cosa più comune da vedere tutti i giorni però rispetto a indietro sì secondo me ce ne sono di più c'è sicuramente una differenza anche città paesi assolutamente noi viviamo grandi città noi vivendo a Roma e Milano forse non ne vediamo di più ultimo billettino insegno alle superiori a volte i miei alunni maschi usano il make up lo smalto o l'eyeliner vogliamo sapere dove insegni a me piace molto che a scuola da sempre palcoscenico di accanimento e presi in giro si sentono sicuri di esprimersi e liberi in un mondo libero che bello bellissima questa cosa proprio un messaggio di speranza anche perché la scuola a volte è un ambiente un po' ma poi il fatto che venga da una professoressa dà ancora più speranza perché se riusciamo a cambiare già da subito l'approccio di chi ci educa magari poi abbiamo anche noi sì anche perché purtroppo c'è da dire che spesso poi lei insegna alle superiori io purtroppo ho delle esperienze brutte delle superiori sono proprio i professori che ti puntano giù che ti creano delle insicurezze ti puntano ti prendono in giro ti scherniscono davanti alla classe quindi anche la componente dell'imbarazzo bellissimo e invece questa è una cosa molto bella mi colpisce anche il plurale cioè alunni più di uno che poi se hai qualcuno e questa è una cosa che diciamo anche in realtà nel mondo dell'università femminile che fa qualcosa all'interno della tua classe senti ad emularlo sì sì questo è straimportante bellissimo abbiamo già finito i messaggi della community però adesso ci divertiamo con questo bell'ultimo messaggio positivo partiamo con the fun part andiamo a vedere il nostro giochino e per la prima volta non lo faremo da sole ma lo faremo con un ospite e anzi ti lanceremo la patata bollente ma che entrino i pulsantoni eccoli qui ma spieghiamo a Luca il nostro gioco blush or hush allora ti faccio proprio provare le esperienze di blush or hush clicca il primo pulsante questo è il pulsante blush tutto glitterosino questo è una cosa piacevole esatto eh no vabbè è un po' autoesplicativo dramma lui è dramma noi ti leggeremo delle frasi che sono state selezionate dalla nostra produzione e tu dovrai reagire ci dovrai dire se per te è blush o hush ovviamente non sapendo neanche noi che frasi sono forse reagiremo tutti insieme pronto? vai il trucco maschile non ha a che fare con la birilità di un uomo e hai capito il gioco bravissimo bravissimo ma vengo qualcosa hai vinto baddi sveglio mi sembra comunque un bel premio oh forse è una nostra tazza ma c'è vero me la merito se la merita anche secondo me il trucco maschile è ribellione e provocazione quindi se ti criticano devi starci e anche qui bravissimo ma va già in generale se ti criticano devi starci a prescindere questo forse vediamo il trucco maschile sarà una moda passeggera cioè secondo me non è proprio una moda no esatto figurati con tutte le cose contrari che ci sono perché uno lo dovrebbe fare per moda esatto è proprio un'espressione sarebbe molto più facile non farlo invece una lotta continua sì però un uomo truccato al lavoro non è credibile perché scusami c'è che qualità li toglie infatti ce lo dequalifica in che modo per quale motivo se un cuoco non sa più cucinare se ha il mascara perdi tutte le tue abilità appena prendi un pennello assurda che ho letto sì ultima linee uomo o linea donna non dovrebbero esistere solo una linea la linea tutti questa era scritta la tipa finale di Mean Girls quella dell'unicorno sì vorrei che facessimo una torta ma lei non va qui ma lei non viene questa scuola una linea tutti vabbè sì comunque siamo d'accordo totalmente ti senti un po' come se è durato poco questo sì devo dire che mi fa tantissimo piacere che abbiate deciso di dedicare un episodio a questa tematica perché in generale penso sempre che i problemi degli altri non debbano rimanere degli altri quindi è bene che voi che non lo vivete in prima persona ne parliate quindi poi vabbè noi comunque ci conosciamo ci vogliamo bene quindi è stato anche molto bello farlo e no vi ringrazio grazie a te davvero per esserti esposto comunque immagino che andare ad affrontare dei temi che ti colpiscono da sempre in maniera così profonda non sia facile perciò grazie a te per aver deciso di condividere con noi secondo me è il modo giusto di cioè se non ne parli non lo rendi quotidiano non si va da nessuna parte non cambierà mai niente e ovviamente ti ringraziamo anche per essere stato il nostro primo ospite che emozione questa cosa grazie abbiamo riso abbiamo ci siamo arrabbiati ci siamo arrabbiati anche ci siamo anche un po' emozionati un rollercoaster grazie a voi per essere stati con noi e aver ascoltato questa puntata non vediamo l'ora di sapere anche cosa ne pensate quindi raccontateci le vostre esperienze diteci la vostra qui sotto nei commenti ovunque dove ci state guardando ascoltando e adesso direi di salutare per la prossima puntata insieme e beh direi di sì ci vediamo la prossima puntata di Bla Bla Blush questo era Bla Bla Blush un podcast prodotto da Shorill Studios scritto da Deborah Fulli e Eleonora Tani executive producer Francesca Fossato e Mattia Bonucci supervisione editoriale Paolo Gioia sound design Matteo Grasso riprese e montaggio Federico Tacchini e Giordano Torti grafiche Mirko Cagliardi animazioni a cura di tips sponsorship Vanessa Brivio un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo e Luca Leoni e ovviamente a Baddebri e Mini e Maxi сер persecuzione e ailendorizzato e lightnorizzato